Ciao ragazze, siamo arrivate al Natale 2023. È stato sicuramente un anno impegnativo, un anno con problemi di salute, problemi con la mia mamma, insomma tante difficoltà, l'alluvione in Toscana, la guerra, insomma è stato un anno davvero difficile, ma anche ricco di soddisfazioni, quindi un sacco di progetti e soprattutto il vostro sostegno. Ricevo tutti i giorni, ho ricevuto in questo anno in momenti di difficoltà, messaggi, mail, veramente sento forte proprio il vostro affetto e sono contenta di aver iniziato in questi anni questo percorso con voi perché è nato qualcosa di davvero importante. Come tutti gli anni, anche quest'anno, daremo, devolveremo una parte dell'utile dell'azienda per attività benefiche. Solitamente le nostre attenzioni andavano alle donne che in qualche modo avevano subito violenza e ai loro figli. Quest'anno però mi sento di sostenere la mia regione, perciò assolutamente gli aiuti andranno ad alcune situazioni in cui l'alluvione ha davvero colpito duro e fra questo ci sono anche amici o persone a cui sono legata, perciò ecco le nostre attenzioni saranno molto più. Quindi ogni anno una parte del vostro sforzo o una parte del mio sforzo ecco vengono sempre convogliate in qualcosa che ha a che fare o con le donne o con bisogni impellenti del territorio perché penso che tutto questo, diciamo questo circolo virtuoso che si viene a creare è importante che venga un po' ecco condiviso con chi invece non se la sta passando tanto bene. Vi faccio auguri davvero di cuore e che il 2024 sia un anno davvero speciale. Speriamo con meno difficoltà e soprattutto tutte insieme speriamo come sempre di superarne. Vi voglio bene. Insomma ragazze, buon Natale! Grazie per la visione!